Musica Eccoci qua di rientro dalla terza prova di campionato italiano under 23 senior Sono riuscito a vincere la categoria 125 senior e ho concluso il settimo posto nell'assoluta Dai comunque un buon risultato, ho fatto un piccolo errorino nel primo cross test dove sono scivolato Ho perso un po' di secondini, poi ho perso un po' di fiducia magari anche nei miei mezzi Di conseguenza giro dopo giro sono andato a migliorarmi Fin quando poi l'ultimo giro sono riuscito a fare delle ottime speciali e recuperare un po' i gap Dopo l'errore primo cross test ero 29esimo assoluto e siamo riusciti a recuperare fino al settimo